Volevo spiegarvi il funzionamento di un test che io eseguo nella mia pratica clinica, esattamente il test S-Drive, perché molti me lo chiedono e alcuni fanno un po' confusione in merito. Questo test si basa sull'utilizzare il capello, ma esattamente il bulbo del capello, e posizionarlo praticamente su questo device, su questo strumento, che è in grado di rilevare le frequenze elettromagnetiche che sono appunto nella cellula rappresentata dal bulbo del capello. Non è quindi da confondere con il normale mineralogramma che si fa sul capello e normalmente si fa sulla parte terminale del capello, cioè una parte morta, mineralogramma che è in grado in effetti di evidenziare i livelli dei vari minerali e quindi di capire una determinata condizione metabolica. Ebbene, questo invece è un test diverso, è un test che appunto è in grado di valutare le frequenze elettromagnetiche del nostro organismo in quel momento ed è anche in grado poi di darci delle indicazioni, dandoci appunto delle informazioni su quali sostanze poter usare per risincronizzare le nostre frequenze elettromagnetiche. E su che cosa si basa questo concetto? Si basa sui concetti di fisica quantistica che fanno sì che praticamente si considera l'acqua come una sostanza in grado di caricarsi elettromagneticamente. E siccome il nostro corpo è fatto per il 70% d'acqua, ebbene noi nel nostro corpo noi siamo in grado di registrare appunto queste frequenze elettromagnetiche. ed eventualmente utilizzando determinate sostanze che questo test ci indica siamo in grado di risincronizzare, migliorare appunto le nostre frequenze elettromagnetiche e metterle più in sintonia e far sì che tutti gli organi del nostro organismo possono vibrare con una frequenza energetica più compatibile e più corretta. Questo test appunto ci dà poi un report che praticamente esprime per esempio già la situazione dei vari sistemi d'organo in maniera che ci fa già capire in quale organo noi magari abbiamo delle alterazioni di tipo energetico che poi si possono tradurre con franche patologie. Vedete per esempio in questo test, magari non riuscite a leggere perché è scritto in piccolo però lo dico io, vedete che ci sono delle zone più colorate ebbene queste zone colorate esprimono dei sistemi di organo che hanno delle problematiche qua possiamo vedere per esempio il sistema intestinale il sistema adrenergico legato allo stress e in rosso dei sistemi sui quali bisogna agire in maniera prioritaria e nel caso specifico questo è il sistema cardiovascolare e questo è il sistema immunitario quindi vuol dire che noi dovremmo agire tenendo conto di queste indicazioni e cercando di migliorare quindi questi sistemi. Poi successivamente, oltre a delle indicazioni specifiche con quali integratori intervenire però questo test ci dice anche quali interferenze a livello di frequenze energetiche e elettromagnetiche noi siamo sottoposti e quindi ci dice se per esempio siamo più suscettibili a delle frequenze elettromagnetiche che vengono dai cellulari oppure dalla televisione oppure dai cavi di alta tensione e di questo ne possiamo tener conto regolandoci di conseguenza. Poi ci indica anche se abbiamo delle carenze di vitamine per cui una carenza di vitamine che non necessariamente viene espressa dai test tematici perché questo è un test diverso che vede se ci sono dei deficit energetici e in più a livello cellulare. Faccio un esempio, potremmo trovare nei test ematici delle non carenze di vitamine penso alla vitamina B12 che potrebbe essere presente in quantità più che sufficienti addirittura a volte elevate ma a volte questo non si traduce con delle concentrazioni ottimali a livello cellulare oppure lo stesso potassio, noi andiamo a vedere i valori del potassio nel sangue ma il potassio è un minerale che esprime diciamo la propria funzionalità soprattutto a livello intracellulare perché è presente soprattutto a quel livello e quindi una carenza intracellulare che poi causa dei problemi. Ebbene questo test è in grado di vedere proprio gli squilibri energetici che derivano da alterazioni, carenze a livello cellulare. Oltre alle vitamine ci dà anche delle indicazioni sui minerali abbiamo già parlato per esempio del potassio ma anche altri minerali importantissimi come lo zolfo, selenio, lo zinco molto importante oggi per il nostro sistema immunitario anche i livelli di acidi grassi e quindi ci dà delle indicazioni come modulare la nostra alimentazione o la nostra integrazione proprio per avere uno corretto equilibrio di acidi grassi ma anche se siamo carenti di antiossidanti quindi tendenzialmente la carenza di antiossidanti è legata a un livello di stress ossidativo più o meno elevato nel nostro organismo per cui qualora così fosse noi dovremmo fornire più antiossidanti e ci indica ma anche proprio quali in maniera specifica noi dobbiamo utilizzare ma anche di amminoacidi ebbene la carenza di amminoacidi è spesso legata a un certo tipo di alimentazione oppure eccessivo consumo per esempio io spesso trovo la carenza di amminoacidi soprattutto negli sportivi molto più raramente nelle persone sedentari che consumano magari abbastanza proteine per i loro fabbisogni ma negli sportivi soprattutto agonisti spesso c'è una carenza di amminoacidi dovuta a un loro iperconsumo e di conseguenza allora è giusto intervenire proprio con quegli amminoacidi che vengono segnalati essere carenti inoltre in questo test indica anche dei danni di tipo ambientale che possono essere legati a degli inquinanti a un eccesso di radiazioni alla presenza di hydrocarburi diciamo nel nostro ambiente e di conseguenza anche questo ci dovrebbe indicare la necessità di porre rimedio a questa situazione oltre anche il test ci dà delle indicazioni se il nostro organismo è al momento vittima di un determinato diciamo così proliferazione di virus, batteri, parassiti e anche in questo caso ovviamente possiamo intervenire con delle misure atte a evitare questa situazione in più ci dà anche delle indicazioni su quali alimenti noi ci dovremmo orientare per migliorare il nostro stato di salute perché anche i vari alimenti hanno la loro frequenza elettromagnetica e di conseguenza è in grado di identificare gli alimenti che al momento sono dissonanti con la nostra energia e quindi ci consiglia di eliminarli per un tot di tempo proprio per migliorare il nostro stato energetico ottimale ebbene questo test è un test ovviamente molto utile che va ripetuto ogni tanto almeno ogni tre mesi e questo ci permette mano a mano di tarare appunto l'alimentazione i nostri stili di vita e l'eventuale integrazione con vitamine, minerali, acidi grassi, amminoacidi eccetera per riportare l'organismo nel massimo equilibrio energetico che è il presupposto fondamentale per uno stato di salute ottimale grazie a tutti